Tre secoli fa, tre pescatori pescano prima il corpo, poi la testa di una miracolosa statua della Madonna. È il secondo santuario mariano più visitato al mondo, quasi un milione di pellegrini ogni mese. Stiamo parlando di una capienza di quasi 50.000 posti. È il santuario di Nostra Signora di Aparecida. E allora corriamo subito in Brasile, ma lo facciamo entrando in una comunità cattolica dove è pronto ad accoglierci in questo giorno di festa e di preghiera. Padre Antonio Furtado, sacerdote della comunità Shalom in Fortalezza, grande innamorato della Madonna e di Padre Pio. Padre Antonio, auguri buona festa di Maria Paresida e benvenuto su Padre Pio TV. Come stai? Essere con tutti voi, Italia, San Giovanni Rotondo, è un luogo che amo di cuore, che sempre che posso vado lì a cercare Padre Pio. Per me è un grande onore parlare della nostra grande madre che in tutto il mondo appare per portare pace, portare vita, portare soprattutto il suo figlio Gesù. Certo. Padre Antonio, una statua così piccola ha conquistato prima il Brasile e poi il mondo intero, come dici tu. Ma che cosa rappresenta quella statua per un brasiliano? Lo chiedo a te che sei un sacerdote. Allora, Maria, la madre di Gesù, è la nostra madre e quando noi siamo nella casa della madre ci sentiamo bene. Nel Brasile Maria è a pazza in un momento molto difficile perché qui c'era la schiavitù. Allora era un momento di molta sofferenza per la gente e in un modo molto semplice la Madonna vuole avvicinarsi dei suoi figli con questa apparizione che infatti non è un'apparizione come Fatima, Lourdes. Tre pescatori, come hai detto tu, cercavano del pezzi perché il governatore di Portugallo che era venuto al Brasile come governatore andava a una regione chiamata di Minas Gerais e in quel periodo era una regione che produceva tanto oro e per questo anche immaginate la situazione di guerra, di problemi sociali che avevano e questi tre pescatori, quel giorno, era ottobre 1717, 1717, non riuscivano a pescare nel fiume Paraiba e a un certo punto già un po' stanchi quando lanciano le reti viene fuori questa piccola statua della Madonna immaculata e poi dopo un po' quando mettono ancora la rete viene questa testa della statua che loro mettono insieme e si vede che la Madonna è come ho detto è una statua di terracotta che rappresentava la Madonna dell'Immaculata Concepzione, infatti noi la chiamiamo la Madonna dell'Immaculata Concepzione apparettiva e poi il miracolo succede che tanti pesci in quel momento che non c'era nessun pesce è un miracolo. Anche qui come quello di Gesù insomma ecco quindi la madre che riporta il figlio è una pesca miracolosa. Eh certo ma in questa storia di devozione padre Antonio io vedo proprio si vede il timbro il sigillo di Maria la Madonna ha voluto essere trovata da persone povere e si fa trovare a pezzi prima il corpo poi la testa perché secondo te e lo chiedo a padre Antonio missionario della misericordia nel senso c'è una sorta di identificazione tra Maria e i poveri e tra i poveri e Maria è così? Sì perché pensa quella statua qualcuno l'ha buttata via perché era rotta l'ha lanciata in fiume e perché è rimasta lì tanto tempo e naturalmente il colore che appare è quel colore un po' nero e come ho detto già lì era il problema della schiavitù e è come se Maria vuole essere madre di quella gente che era venuta dell'Africa come schiava certo come schiavi e lei con il suo colore fa vedere a tutti guardate che questo popolo povero negro è anche figlio sono figli di Dio e c'è anche una cosa importante che la principezza e in quel periodo del Brasile lei non aveva figli e ha chiesto alla Madonna questo miracolo e la regina ha ottenuto da nostra signora questa grazia di essere madre e poi questa principezza questa regina prende tutto i suoi gioelli tutto quello che aveva e ha fatto questa corona e abbiamo visto adesso è una corona molto bella con tutti i gioielli di questa regina e poi è questa regina che dopo ferma la legge della libertà degli schiavi nel Brasile allora è un atto fatto che un giorno un uomo aveva scappato e era tutto imprigionato con le catene di ferro e il suo padrone lo cercava con un cavallo e quello correva in un momento di disperazione è entrato nella chiesa della Madonna e lì davanti alla statua le sue catene cadono miracolosamente ancora oggi si possono vedere queste catene che cadono catene forti che cadono della mano di quello schiavo allora quell'uomo ha visto questo miracolo e ha donato la libertà a questo schiavo poi piano piano la regione dove appare la statua era come ancora oggi una strada importante che faceva diciamo il lagame fra il Rio di Janeiro San Paolo e Minas Gerais e la Madonna ha scelto esattamente un punto dove tutte le persone per fare comecio e altre cose passavano e poi subito ha cominciato a tirare l'attenzione per i miracoli che succedevano in quella cappella poi è stata fatta un'altra chiesa più grande e poi nel 1980 quando è venuto in Brasile il Papa San Giovanni Paolo II lui ha considerato questa nuova basilica che c'è una cosa molto speciale è la più grande basilica del mondo, Mariana, la più grande cattedrale del mondo e piccola solo un metro di San Pietro perché non poteva essere più grande quindi ha quasi la grandezza di San Pietro giusto? sì, un metro di meno è fantastico dalle immagini si vede la grandezza ma certo noi non ne abbiamo la percezione immediata perché ovviamente in televisione riusciamo a vedere la grandezza ma voi che siete lì sicuramente avete l'idea un po' dell'immenso, no? sì, 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 è come San Pietro certo un metro di meno perché sapete che a San Pietro e dentro della basilica ci sono le misure di tutte le grandi cattedrale del mondo allora se tu entri a San Pietro, a Roma, puoi vedere i nomi delle più grandi cattedrale del mondo anche quella di San Paolo perché non si può fare una chiesa più grande di San Pietro ma padre Antonio dimmi una cosa ma voi come state vivendo la festa di Maria Parisida in comunità? come avete preparato una novena? non so allora alcuni anni fa il santuario di Parisida ha creato diciamo una rete di tv già avevano una rete di radio e adesso hanno una rete di tv e questa rete di tv è riuscita a portare la devozione in tutto il Brasile anche fuori del Brasile e adesso possiamo dire che tutto il Brasile durante la novena celebra insieme al santuario sia nelle grandi o piccole cappelle perché ci sono dappertutto chiesa dedicata alla Madonna Paz e facciamo insieme questa novena e può anche seguirla dal vivo della tv apparecida del santuario che bello che bello padre Antonio allora io voglio chiudere con le parole di papà Francesco la chiesa quando cerca Cristo bussa sempre alla casa della madre e chiede mostraci Gesù e noi oggi stiamo bussando proprio al cuore di Maria e quindi grazie a padre Antonio Furtado padre Antonio noi ti ringraziamo però ti vogliamo presto a San Giovanni Rotondo mi raccomando anzi anzi se hai una data dicela così la spoileriamo subito sì il prossimo anno nel mese di marzo ci sarà il giubileo dei sacerdoti della misericordia io sarò lì a Roma e certo non vado in Italia senza andare a San Giovanni perché amo di cuore questa terra benedetta e così a marzo che troveremo insieme bene sai che siamo la tua seconda famiglia e la tua seconda casa quindi ti aspettiamo grazie padre Antonio e noi ci vediamo presto un minuto di pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti